Per scattare fotografie o girare video con poca luce è molto meglio un sensore full frame. Le fotocamere con sensore APS-C infatti fanno più fatica quando la luce è poca e quindi dobbiamo alzare i valori degli ISO. Avremo delle foto più rumorose e con una gamma dinamica inferiore. Ma è proprio così? Nel corso di questo video andremo a fare un test dei valori ISO con Canon EOS R10, una macchina che mi è stata inviata in prova direttamente dalla casa. Andremo a vedere come si comporta questa macchina e poi faremo le nostre considerazioni finali. Ora tenete anche conto che sto utilizzando il 18-150 di cui abbiamo già parlato in altri video che vi invito ad andare a recuperare. Il test che vedrete sfrutta le luci presenti nel mio studio che sono tendenzialmente basse. Andremo a cercare di capire quanto rumore produce la macchina e a che punto le fotografie cominciano a essere inutilizzabili. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e faccio il fotografo di mestiere e quindi di macchine come questa ne ho provate tante in vita mia. Su questo canale vi porto le mie esperienze in maniera tale che possiate trarre le vostre conclusioni su strumentazione come questa. Prima di saltare direttamente al test degli ISO io invito tutti quanti quelli che non l'avessero ancora fatto a iscriversi al canale cliccando il bottone qui sotto. Vi ricordo anche che lasciare un bel like a questo video ci dà una grandissima mano. E adesso tuffiamoci all'interno di Canon EOS R10 e partiamo con il nostro test. Molto bene, eccoci qui con il nostro test. Stiamo inquadrando i nostri filtri in ESI. In questo momento siamo a ISO 100, un trentesimo di secondo e F4.0. A questo punto passiamo subito a ISO 200 e andiamo a compensare. Ok, così dovremmo aver compensato efficacemente la salita dei nostri ISO. Ovviamente tra ISO 100 e ISO 200 non c'è una differenza riscontrabile a occhio nudo per cui andiamo avanti e saliamo subito a ISO 400. E di nuovo andiamo a compensare. Io mi scuso per il movimento della macchina ma sono in posizione abbastanza precaria. A questo punto visto che ancora io personalmente non vedo differenze andiamo a ISO 800. E nuovamente andiamo a compensare. Io ancora non vedo grosse differenze a monitor ma mi riservo di cambiare idea quando esamineremo questo filmato a computer. Saliamo a ISO 1600 e nuovamente andiamo a compensare. A questo punto probabilmente un po' di rumore si dovrebbe cominciare a vedere ma noi non ci accontentiamo e andiamo direttamente a ISO 3200. E ovviamente continuiamo a compensare. Io vi devo dire che a monitor il rumore non lo vedo. Probabilmente a computer un po' ce ne sarà però credo che a questo punto sia ancora perfettamente tollerabile. arriviamo a ISO 6400 che una volta era un limite invalicabile su molte macchine. E torniamo a compensare. Vi devo dire che in questo momento io a monitor ancora non lo percepisco il rumore. Probabilmente a computer ci sarà ma lo scopriremo insieme e anzi commentatemi a che punto del video voi cominciate effettivamente a vedere del rumore. scaldiamo i motori e andiamo a ISO 12800 e torniamo a compensare. Ora se vado vicinissimo al display devo dire che forse un po' di rumore qui si vede anche a display quindi a computer probabilmente ce ne sarà. A questo punto passiamo in modalità foto perché per quanto riguarda la modalità video credo che abbiamo raggiunto il limite per cui vado a scattare questa fotografia che vi mostro che è stata scattata a ISO 25600 scatto direttamente in JPEG così quello che vediamo è esattamente quello che è uscito dalla macchina. Ovviamente non ci fermiamo qui e vi mostro anche un'immagine scattata a ISO 32000 e una fotografia scattata con il valore H che dovrebbe essere un impressionante 50.000 ISO e qualcosa. Sì, 51200 ISO per essere precisi. Allora, avete visto le performance della macchina? Queste sono performance indicative nel senso che non ho fatto post-produzione di nessun tipo. Questo significa che sia sulle foto sia nel video possiamo andare poi a diminuire il rumore digitalmente con i mezzi che reputiamo più leciti. Possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale. Ho già pubblicato un video su Luminar Neo e sulla riduzione del rumore con l'intelligenza artificiale quindi andatevelo a recuperare. Esistono ovviamente sistemi analoghi anche per il video ormai quindi sia che stiamo facendo foto sia che stiamo facendo video possiamo dopo andare a mitigare il rumore ulteriormente in post-produzione. A questo punto, amici, io vi chiedo fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate delle performance di questa macchina considerate le sue dimensioni e la fascia di prezzo io vi devo dire sinceramente che la reputo stupefacente nel senso che una cosa del genere qualche anno fa sarebbe costata dai 2000 euro in su invece oggi ce la possiamo portare a casa per una cifra che può sembrarci comunque alta considerato che si tratta comunque di una macchina di fascia intermedia tendente al basso volendo però una decina di anni fa per una cosa del genere avremmo dovuto comprare una macchina progredita invece adesso c'è il comparto tecnologico e la sensibilità necessaria per portarsi a casa delle immagini praticamente al buio siete ancora convinti che il sensore APS-C performi male quando c'è buio? allora possiamo fare mille discorsi su questo argomento e io vi dico la mia è evidente che un sensore full frame ha dei vantaggi fisici, costruttivi però devo anche dire che a livello tecnologico questi sensori si difendono abbastanza bene nel senso che tecnologicamente si va a compensare quello che è il difetto costruttivo fisico del nostro sensore una macchina come questa ci permette di portare a casa delle fotografie che secondo me fino a dieci anni fa sarebbero state impossibili perlomeno per questa fascia di prezzo e con un'ottica non particolarmente luminosa come questa a questo punto io direi come sempre parliamo nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi domande su questa macchina se avete domande adesso perché finché ho la macchina in mano vi posso rispondere una volta che poi la restituisco farò fatica dovrò ricordarmi la risposta alla vostra domanda e magari sbaglierò invece se me lo chiedete adesso potrei anche fare un video sulle vostre domande più interessanti a questo punto amici non mi rimane altro da fare che ricordarvi di iscrivervi al canale così non vi perdete le risposte che vi darò sotto forma di shorts verticali io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e io e Canon EOS R10 vi diamo appuntamento al prossimo video eccoci qua buongiorno a tutti da Alessandro di 4W d'Italia per chi mi segue da un po' probabilmente questo CJ7 se lo ricorda questo è solo un aggiornamento sull'avanzamento di questo restauro siamo arrivati al punto che la scocca è stata rimontata l'abbiamo completamente riverniciata abbiamo tolto delle quintalate di stucco di un precedente restauro fatto un po' così così adesso mancano le cose che sembrano minori ma sono quelle più lunghe perché sono tutte le finiture gli altri pezzi dobbiamo ancora assemblarli cofano, portellone posteriore, parabrezza e tutto il resto però siamo abbastanza avanti giusto per chi non ha seguito gli altri video questo è un CJ7 dell'83 ha un motore 6 cilindri, 4.2 è ancora carburatore e il motore anche questo è stato rivisto non revisionato completamente ma in buona parte e alcuni upgrade importanti di questo motore sono per esempio questo carburatore Weber che sostituisce quello originale che aveva dei problemi già di suo e questo spinterogeno con mobili integrata che dà una resa sicuramente maggiore contiamo di portarla a termine in questo senso vi aggiorneremo ci vorrà almeno un altro mesetto di lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti